Perché mi sono trovato molto bene, è una città che mi ha accolto a braccia aperte e poi è una decisione anche di famiglia, la mia famiglia si trova bene e anche mia figlia che può continuare sia con la scuola che con la ginnestica artistica. No, sono arrivate delle proposte ma sia la società che io abbiamo deciso che non era il momento di andare via.